Sicuramente andiamo a approfondire uno o più di questi argomenti, se non tutti, nelle puntate successive, anche perché adesso andiamo ad entrare nell'ultimo argomento della giornata, della mattinata, perché è notizia recente che la Cina andrà a immettere ulteriori liquidità a supporto delle banche, un sistema bancario che è fortemente stato impattato da molti fallimenti nell'ambito dei RIT, comunque dell'immobiliare cinese, che ha di conseguenza impattato anche le banche cinesi. Come la vediamo questa cosa? Cina che sembra sempre meno in difficoltà, poi agli occhi, se uno va a guardare tutte le cose, le difficoltà ci sono e si percepiscono. Allora, la Cina sta lentamente passando ad un processo, anche molto veloce in realtà, di diventare uno dei stati del primo mondo, uno degli stati più sviluppati. Abbiamo sempre detto che la Cina arriverà a soppiantare probabilmente l'America come produttore mondiale, come esportatore mondiale. Adesso bisogna vedere un attimino come ci si muoverà in tal senso. Quello a cui stiamo assistendo è la volontà politica di vedere uno stato che viene trattato come paese emergente, quando in realtà emergente non lo è. Allora, che cosa è successo? La banca centrale ha immesso all'interno del mercato circa 55 miliardi di dollari, un grandissimo prestito sul medio termine, per risollevare l'economia. Ha mantenuto i suoi tassi di interesse al 2,5%, molto più bassi rispetto al mercato americano, per quanto comunque ci troviamo in una situazione completamente diversa. Il rallentamento è molto chiaro. Ti ricondivido un attimino lo schermo perché voglio farti vedere una cosa. Aspetta, dammi un secondo. Allora, ti ricondivido lo schermo per farti vedere il PIL. Il PIL cinese. Noi abbiamo assistito un rallentamento dal 2011 del PIL cinese, che è passato dal 10% ad un progressivo 7% circa, fino ad arrivare ai livelli attuali, dove ci troviamo ad una crescita importante, perché una crescita su base annuale del 4,5-6,3 è comunque molto importante, ma non è ai livelli dei quali avevamo assistito nel 2011 pari al 9-10%, che è stato anche complice di quello che è stato il rialzo della Cina, il grande espluato del mercato cinese. Quindi ne abbiamo visto. Un'economia che ha galoppato per tutta una serie di anni, tensioni geopolitiche, matura con l'America in questo caso, crisi di microchip, tutto quello a cui abbiamo assistito, crisi del Covid, cambio di politica economica da parte del partito cinese, il quale ha voluto limare la crescita dei grandi colossi Alibaba, Tencent e BD scorrendo. Quindi ci troviamo di fronte ad una Cina che continua a crescere, raggiungendo però sempre di più un obiettivo di PIL, di crescita economica, quindi molto più basso rispetto a prima. L'obiettivo allo stato della cosa del governo cinese è del 5%. Quindi comunque siamo in piena possibilità di... scusa, in pieno rispetto di quella che è la tabella di marcia. Ma dobbiamo prendere atto del fatto che la Cina non è la Cina di dieci anni fa. Proprio la struttura economica è profondamente cambiata, diventando de facto uno stato del primo mondo, ormai per quanto molti la considerano emergente. Scusa. Dall'altro poi leggevo di recente, documentandomi che comunque la Cina possiede una grossa fetta, forse la maggiore, del debito pubblico americano. Nel senso che molti bond americani vengono posseduti appunto da parte del governo cinese. E questo crea un po' un binomio di odio e amore fra le due nazioni, perché ovviamente la Cina e l'America si fanno guerra commerciale, ma si devono amare per forza a un certo livello, perché gli Stati Uniti in default non li possiamo vedere, non saranno mai una cosa del genere. Però la Cina ovviamente ha dalla sua parte un coltello che è un po' dalla parte delle maniche, un po' dalla parte della lama. Bisognerebbe vedere un attimino come si sviluppa la situazione. È perfettamente corretto quello che vai a dire, Pasquale. Diciamo che bisognerà vedere, su questo in realtà terrei a porre l'accento, come si muoveranno le prossime elezioni in America, perché le scelte politiche impattano molto anche quando queste vanno contrarie agli interessi nel lungo termine. L'abbiamo visto ad esempio con Trump, con quello che è successo con Trump e anche in parte con Biden. Bisognerà vedere se questo inasprimento porterà a una vera e propria rottura, anche se contrarie agli interessi degli Stati. Quello sarà una delle tematiche che sul lungo termine io tendo a considerare maggiormente, perché l'equilibrio mondiale nel quale ci stiamo muovendo non è più attrazione esclusivamente statunitense, è più bi-tripolare, bisogna vedere un attimino come effettivamente si andrà a sviluppare. E lì consiglio a tutti quanti di andare a guardare molto attentamente quello che sta succedendo alla politica statunitense con le nuove elezioni post-Biden. Anche perché non c'è solo il discorso del mercato internazionale, ma anche, come ho detto più volte, la Cina si trova in una forte difficoltà economica dal punto di vista del mercato immobiliare, perché molti colossi immobiliari sono in forza difficoltà, qualcuno ci ha rimesso anche le penne. Quindi è un po' una specie di bilancia commerciale fra una superpotenza, perché tale è al momento, e una potenza che ancora sembra un po' ardetrata nel proprio mercato interno. Sì, concordo, concordo. Sarà interessantissimo magari riparlarne e sviluppare l'argomento su cui ci sono talmente tante cose da dire come puoi immaginare sull'argomento. Anzi, a tutti quanti gli ascoltatori, se sono interessati ad un argomento specifico da trattare più che volentieri, possiamo cercare di fare un quadro della situazione. Magari lasciate un commento qui sotto e ricordatevi che poi per ogni live estrapolo due o tre argomenti e li pubblico come video singoli, per cui magari se quell'argomento particolarmente vi interessa, lasciate un commento sotto, che noi cerchiamo di andare a completare magari con un video un po' più strutturato e meno improvvisato di approfondire quell'argomento in generale. Anche perché, al di là della Cina, mi interesserebbe approfondire con te in futuro, sempre parlando dei mercati cosiddetti emergenti, che forse emergenti tanto più non sono, anche il discorso India, che questo anno, insieme al Brasile, ha avuto la crescita maggiore in termini di mercati azionari. È interessantissimo vedere come si sono mosse entrambi, non ti nascondo che è stato un grandissimo rally interessante da dover guardare. Io, come sempre, consiglio, quando si vogliono affrontare questi mercati che solitamente sono un po' più sotto i radar per noi occidentali, di, anziché cercarsi la singola azienda specifica, valutare in caso un paniere un po' più ampio, perché è molto complicato analizzare contesti così diversi da noi che però magari in futuro potrebbero prendere la scena e lì sì che sarebbe molto interessante. Comunque così ne riparliamo più che volentieri, anzi. Sì, dai, anche perché comunque gli argomenti sono tanti, la carne a fuoco c'è, bisogna semplicemente accendere il carbone e far partire la grigliatina. Grazie.